Ho appena finito di fare la live ragazzi sono riuscito a ricaricare i b-back quindi andiamo a regalare la skin al vincitore ragazzi dei server privati di 5 giorni fa mi sembra live Feli Andiamo a regalare Mezmer che era la skin che voleva e anche voi se volete vincere skin nei miei server privati di Fortnite vi basterà fare i due passaggi che sono Iscrizione al canale più campanellina e supporto a un creatore che è questo ragazzi mi raccomando fateli dopodiché entrate in live Arriviamo a 40 like per questo video perchè sono andato a riscattare una skin che è diventata rarissima Ma? Come avrete visto senza ordinare nulla ragazzi mi è arrivato questo fumetto che forse mi ha dato YouTube e niente ragazzi dietro a questo fumetto c'è un codice della skin di Harley Quinn che è diventata rarissima Bene per chi ce l'ha ragazzi perchè non uscirà mai più nello shop di Fortnite Ecco il codice vabbè ve lo posso far vedere a voi ragazzi tanto sono andato già a riscattarla quando io registrerò questo video E niente ragazzi io farei una piccola recensione su questo fumetto e dopodiché andremo a provare la skin di Harley Quinn che sbloccheremo con il codice che inseriremo sul sito dell'Epic Games ragazzi Ed eccolo qui ragazzi questo è come si presenta il fumetto c'è scritto punto zero e poi c'è la scritta Fortnite che rende l'ufficialità di questo fumetto Ragazzi dopodiché c'è il prezzo qui sopra ragazzi l'ho pagato solamente 3 euro e adesso da oggi in poi lo vendono anche molti seller su Instagram a 20 euro ragazzi Quindi è abbastanza una truffa però ragazzi per chi ci tiene a questa skin che è diventata prima o poi rarissima da oggi in poi può acquistarla anche dai seller su Instagram ovviamente quelli più affidabili Qui dietro ragazzi alla pagina finale c'è il codice come potete vedere da qui eccolo qui questo è il codice per andarlo a riscattare sul sito dell'Epic Games e per andare ad ottenere la skin di Harley Quinn Vedete qui c'è scritto appunto per riscattare il tuo oggetto bonus in Fortnite visita fortnite.com bar redeem quindi per riscattarlo per chi non sa come riscattarlo vi basterà digitare fortnite.com bar slash redeem Ok e dopodiché mettere il codice logando sul proprio account Qui ragazzi c'è scritto pronti alla battaglia non si legge molto bene perché questa webcam fa schifo ragazzi lo so E Batman è un supereroe pieno di risolvere vabbè qui si è collegato più all'argomento di Fortnite su Batman e niente ragazzi qui ci sono i vari fumetti cioè ci sono le varie pagine che raccontano un po' la storia di Fortnite per Batman ragazzi Adesso ragazzi io direi che è arrivato il momento andiamo a vedere se c'è arrivata questa skin su Fortnite la skin di Harley Quinn vediamo un po' ragazzi vado a mettere il codice sul sito Amen ragazzi speriamo preghiamo in bene e vedremo se così vedremo se ci daranno veramente la skin di Harley Quinn e se questi fumetti non truffano veramente vediamo ragazzi Ed è il momento di andare a vedere se è una truffa oppure no ragazzi sto accedendo a Fortnite siamo nell'accesso in corso e vedremo se ci avranno dato questa skin di Harley Quinn che è diventata rarissima ragazzi Sono appena andato a mettere il codice sul sito dell'Epic Games vediamo un po' Oh gli oggetti acquistati ti aspettano oh my god ragazzi se hai la skin di Harley Quinn io impazzisco andiamo su battaglia reale Oh mio dio vediamo un po' se me l'hanno data veramente ragazzi vediamo se me l'hanno data veramente 3, 2, 1, Harley Quinn rinascita eccola qui ragazzi ecco la nostra skin finalmente ce l'hanno data con le nostre treccine blu e rosa Attenzione ragazzi ce le fanno vedere quest'altro stile ma non so se c'è anche l'altro stile Comunque noi andiamo ad equipaggiare andiamoci a fare una bellissima partita questa la dobbiamo vincere ragazzi perché questa skin mi casa un botto questa skin di Harley Quinn Soprattutto perché so che è rara e quindi mi casa ancora di più ragazzi quindi io direi di buttarci in game ragazzi di andare a fare una bella partitina vediamo se la vinciamo Ok ragazzi siamo tornati qui a sepi da grifoglio vediamo un po' ragazzi vediamo questa cesta ok un assaltino Una mitraglietta ok delle armi principali per l'inizio del game ok Ma siete un nemico ragazzi? Facciamo un attimo questo Oddio ho preso già il muro lì Dovevo salire ragazzi iniziamo a mettere la scala Mamma ragazzi quanto mi casa sta skin Ma che vuole scappare questo? No metti la scala Chiudiamolo che è meglio Questo mi sa che non so giocare Oddio Andarci piano Madonna che kill ragazzi Oh my god No fa cagare però andiamo avanti Sono abbastanza casato perché sto utilizzando sta skin quindi pusho tutti ragazzi pusho tutti Ti vengo nel box No scherzo scherzo l'ho hittato però Però l'ho hittato Madonna ragazzi Sta insistendo un botto sto nemico mamma mia Difficile cavolo Difficile Tevo c'è una scala dietro non si sa mai Abbiamo 12 di mazza Adesso 20 Li possiamo usare bene Ma madonna ragazzi Madonna abbiamo usato questi 20 mazza Alla perfezione Non so cosa ci faccia questo qua sopra No Costruisci Scappa Ah ma bevo un tantuno di vita Pensavo mi avesse lasciato di meno Ok Scappiamo ragazzi Questo è l'importante cavolo Andiamoci a curare Che cazzo vuoi fare Scusami Cosa vuoi fare Scusami che sei scarso Cosa vuoi fare Devo essere gasato ragazzi Con questa skin Io sono gasato Dove vuoi andare Dove vuoi andare Dimmi dove vuoi andare Oddio secondo me è forte questo Non lo so Madonna Io adesso mi sto gasando troppo ragazzi Non potete fare più un cavolo 1v1 Ti squaglio bro Non potete fare più niente Ragazzi E' inutile giocare con me adesso Questi sono colpi Ok Ragazzi adesso questo lo squaglio Cheat Non lo so Però Guardate fatemi concentrare No Madonna sto per perdere tutta la vita Meno male Meno male Meno male Curiamoci Curiamoci Sono gasatissimo ragazzi Sono gasatissimo Dove sei Dove sei che ti squaglio Dove sei No Sta quasi giù Cosa vuoi fare Vuoi spaccare No Ma come non è entrato quel colpo ragazzi Ditemelo Chiudi Perché non mi chiuso Uno di vita No raga ho perso Ho perso cavolo Uno di vita No è suo Scendi Ok Sto morendo d'ansia ragazzi Sto morendo d'ansia E vabbè ragazzi Questa è questione di ping E vabbè ragazzi Siamo arrivati in secondo posto Con questa skin Avete notato che mi fa gasare Secondi Mi raccomando ragazzi Vi chiedo 40 like per questo video Quindi lasciate tutti un bel like Iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti Ragazzi che stiamo per fare la road To 10.000 iscritti Stiamo per arrivarci Finalmente E niente ragazzi Ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi 40 like Mi raccomando Ci vediamo in un prossimo video